Via sul tracciato di Vallelunga alla quarta prova del campionato italiano di motocross. Con impavido agonismo gli atleti affrontano il massacrante percorso, reso addirittura impossibile dallo scivoloso terreno. Prima o dopo tutti i concorrenti finiscono a capofito nella fanghiglia. Indispensabili a volte le funi per recuperare le moto uscite fuori strada, se di strada può parlarsi per questo tipo di gare. Ma i motocrossisti sono individui tenaci e così pur collezionando cascatoni raggiungono finalmente il traguardo. Ha vinto Milani che all'arrivo ha esclamato la mia coppa per una doccia. Grazie per la visione!